E dopo aver ascoltato questa bella canzone, torniamo a collegarci con la nostra Chiara Bonatti e la sua ospite, Tiziana Di Sante, presidente della Fondazione Tercas. Chiara, ci senti? Sì, vi sento, sono qui appunto come dicevo prima con Tiziana Di Sante, presidente della Fondazione Tercas, che celebra quest'anno 30 anni. Ecco, quali sono gli eventi, o comunque come celebrerete questi 30 anni della Fondazione Tercas? Ma abbiamo fatto una scelta ben precisa, quella di celebrarli intensificando le collaborazioni con i nostri interlocutori, che come tutti sanno sono le organizzazioni no profit sul territorio. E quindi al di là di una giornata istituzionale che ci sarà ai primi di ottobre in concomitanza con l'invito a palazzo e la giornata italiana delle fondazioni, noi faremo e stiamo già facendo, abbiamo presentato alla stampa, delle iniziative eccellenti che interessano tutto il territorio provinciale, che vanno appunto dal concerto jazz con Ermetto Pasquale, che c'è stato a Nereto, alla manifestazione appunto di Atri, che ad agosto vedrà 250 musicisti da tutta Europa riunirsi per masterclass e concerti che interesseranno i luoghi artistici di maggiore rilevanza, ecco come dicevo daremo un supporto ancora più importante a tutti i nostri interlocutori abituali. Riteniamo infatti che non ci sia modo migliore di festeggiare che appunto essere vicini al territorio e i suoi bisogni in questo momento così impegnativo. La fondazione è da sempre appunto stata vicina al territorio come dicevamo, come è cambiata in questi 30 anni e come cambierà, perché comunque auguriamo oltre che 30 anni, la sua visione un po' della città, la sua visione degli enti e la collaborazione appunto tra tutte le facce del territorio. Ma la visione della fondazione cambia come cambia la situazione sociale, infatti ogni tre anni la programmazione triennale che viene appunto concepita dal consiglio di indirizzo prende in considerazione quelli che sono i dati sulla situazione e sui bisogni del territorio. In questo momento è innegabile che assistiamo ad un momento in cui i bisogni sociali, le fragilità sociali sono aumentate e c'è un profondo malessere dei nostri giovani. Il problema dei NIT ci preoccupa moltissimo, questi ragazzi che non studiano, non lavorano e che vivono un profondo disagio psicologico legato talvolta anche ai due anni di pandemia. Quindi una grande attenzione ai giovani e ai loro disagi, una grande attenzione ai fragili che costituiscono comunque in quanto persone una risorsa per il territorio e quindi l'attenzione alla persona in tutte le fasce della sua età, dal momento appunto della fanciullezza e quindi i progetti legati appunto ai bisogni educativi, all'emergenza educativa che ci è stata segnalata come emergenza nazionale, fino poi all'età adulta e all'anzianità. L'innalzamento dell'età media degli italiani ha in luce anche problemi legati alle malattie semiche, alzheimer, ma anche all'ospitalità degli anziani, alla rivalutazione di questa età argentia della vita. E quindi ecco, tutta quella che è la progettazione della fondazione si muove e si modifica così come si modifica la società. Naturalmente la cosa che più ci preme è una progettazione che ci lega agli enti territoriali, che ci lega a tutte le associazioni del territorio e che aumenta quelle che sono le relazioni, che aumenta il valore della progettazione sociale. Infatti non abbiamo soltanto un capitale monetario che è importante per noi, abbiamo un capitale sociale che è legato appunto alla creazione di relazioni di fiducia e di collaborazione con tutti i nostri interlocutori. Queste relazioni moltiplicano la capacità di intervento e di efficacia di quelli che sono i nostri interventi monetari. Abbiamo visto che la fondazione Tercas in questi anni appunto è cambiata, ma è cambiata perché appunto cambiano i bisogni, come dicevamo prima, e si è ampliata. Qui stiamo dentro Palazzo Melatino che comunque è un po' simbolo di quello che è la fondazione Tercas e il primo presidente ha voluto fortemente. Quanto è importante avere questa visione della realtà, perché è di questo che stiamo parlando, e soprattutto farlo con uno spirito territoriale, rimanendo legato comunque al territorio che la fondazione vive? È molto importante. Io all'inizio del mio mandato presidenziale ho usato una frase che secondo me rappresenta quanto adesso lei ha detto, profonde radici e grandi ali. Noi siamo profondamente legati al nostro territorio ed anche l'attenzione che riserviamo ai comuni che hanno dato la vita alla cassa di risparmio, che poi si è scissa nelle due realtà appunto della banca e della fondazione Tercas, creando due realtà del tutto autonome, dice come non possiamo dimenticare la nostra storia, le nostre radici. Tuttavia il legame col territorio non ci deve impedire di lavorare con uno sguardo non soltanto nazionale, io sarei dire europeo e mondiale. I confini sono crollati, i nostri giovani soprattutto che sono nati all'interno di un'Europa che ha abbattuto le sue frontiere non accettano giustamente di essere ricondotti a una dimensione locale e quindi dobbiamo fare del localismo una risorsa. La nostra tipicità deve diventare qualcosa che ci caratterizza ma non dobbiamo temere poi di confrontarci con interlocutori internazionali perché solo in questo modo noi potremo affrontare con successo le sfide che ci attendono. Quello che volevo raccontare è anche un attimo come avete iniziato i 30 anni con un gioco di una società che è qui vicino a noi però che comunque racconta Teramo e abbiamo notato anche tra noi colleghi e comunque anche magari altri enti che Teramo si conosce poco. Come vi è venuta in mente questa idea e soprattutto come l'avete pensata? Allora abbiamo pensato di ribadire per i nostri 30 anni appunto il profondo legame che abbiamo con questa città, con questo territorio e l'importanza di sapersi raccontare e raccontarsi attraverso metodi nuovi. La scelta del gioco in scatola è stata guidata dopo il lockdown proprio dal desiderio di riportare intorno a un tavolo giovani, adulti e quindi la presenza fisica. Avremmo potuto scegliere anche un gioco online ma è stata una scelta lucida. Mettiamoci vicini, mettiamoci uno accanto all'altro, ritroviamo il contatto umano e poi impariamo giocando. Abbiamo ribadito come oramai i settori di intervento siamo trasversali, noi abbiamo dei settori di intervento classici che sono arte, cultura, istruzione, ricerca scientifica, volontariato, ma non sono settori separati. Ecco che la cultura si può fare giocando e si gioca con la scuola, quindi l'istruzione, si gioca con gli adulti, si gioca con le istituzioni. Quindi abbattere gli stereotipi, trovare nuovi metodi per raccontarci ed inventarci, ma valorizzando quelle che sono le nostre risorse con uno sguardo che sia, come dire, non condizionato dal passato. E quindi questo gioco che ci porta a guardare con occhi diversi. Le nostre radici e questa grande storia, Teramo era già grande nell'epoca romana, ma ancora prima. Abbiamo delle domus meravigliose e qui a Palazzo Melatino ci sono dei mosaici splendidi che dicono quanto le famiglie fossero colte e quanto fossero anche benestanti perché appunto impegnate con successo ad esempio nelle attività mercantili. Quindi abbiamo davvero una storia gloriosa e possiamo portarla avanti i forti di questa storia. Questa storia naturalmente non ci deve ancora arrivare al passato in maniera statica o farci adagiare, ma deve essere una sfida per il futuro. Così come questo palazzo che è stato recuperato perché fosse un'erogazione per il territorio. Questo palazzo è sede della Fondazione Terecas, ma è per la città di Teramo, è per la provincia di Teramo ed anche questo ospitare eventi, questo avere rapporti con le associazioni che qui svolgono con alcune attività vuol dire che tutto quanto noi facciamo è fatto appunto per il territorio. Non desideriamo essere autoreferenziali, non è questo il nostro scopo, desideriamo spalancare cuore, mente, braccia e le porte di questo palazzo a tutto il territorio provinciale e ai suoi abitanti. Le faccio un'ultima domanda, qual è la visione che ha la Presidente della Fondazione Terecas e qual è la visione che lei ha come persona per appunto la Fondazione stessa? Allora la mia visione è quella di mettere le persone al centro, le persone sono la cosa più importante che esista, in qualsiasi condizione si siano, in qualsiasi situazione si siano. Il rispetto delle persone, la valorizzazione delle loro doti che sono in ognuno, anche nella persona più fragile, è secondo me lo scopo principale. Dobbiamo cambiare il punto di vista e comprendere che ogni persona è appunto una risorsa per la società e quando non riusciamo a valorizzarla e a far comprendere agli altri che è una risorsa e non un peso, siamo sconfitti. Quando noi permetteremo a tutti di raggiungere la felicità aristotelica, l'eudaimonia che consiste appunto nella fioritura di tutte le nostre attitudini, potremo definirci veramente una società civile. Questo in qualche modo è il mio sogno, ma penso che sia anche il sogno della Fondazione Tercas. Io ringrazio la Presidente e appunto oltre ad augurarvi buoni festeggiamenti da qui ai prossimi mesi, speriamo che ce ne siano tanti altri di festeggiamenti e con questo vi restituisco la linea, ringrazio ancora la Presidente e buon proseguimento. Grazie.